A Roseto degli Abruzzi sono stati avviati gli interventi su Viale Roma nel tratto che va dall'incrocio con via Taulero fino all'incrocio con via Pineta. I lavori serviranno per creare un nuovo sistema di raccolta delle acque bianche volto a garantire una maggiore efficienza dell'impianto poiché verranno eliminati i pozzi di dispersione. Ma gli interventi riguarderanno anche la pedonalizzazione dell'area interessata che si trova a ridosso del lungomare centrale. Sì, saranno innanzitutto interventi di reggimentazione delle acque, quindi di un miglioramento della raccolta delle acque, una zona che in caso di maltempo è soggetta ad allagamenti e ovviamente riceverà un completo restyling con una completa pedonalizzazione che consentirà di cambiare volto al centro della nostra città. Durata dei lavori e soprattutto il costo dell'intervento? Il costo è di un milione di euro, la durata prevista sono 250 giorni ma andremo spediti in maniera tale che non ci saranno disagi per l'estate. In tal caso saranno rallentati come lavori, cercheremo di creare dei lotti funzionali che permetteranno di abbattere completamente i disagi. Quindi per gli operatori del posto non ci saranno assolutamente problemi? Assolutamente no e cercheremo nei prossimi giorni anche di concordare le prossime azioni e monitoreremo l'opera settimana per settimana. Quindi andremo come amministrazione a parlare, a colloquiare con tutti in modo tale da creare zero disagi. I lavori ricordiamo rientrano nei 5 interventi antiallagamento finanziati da 5 milioni di euro ed interesseranno a stretto giro anche altre zone tra Roseto e Frazioni.